Ciao a tutti, oggi sono a Calaluna, lo sapevate già perché ho fatto un video in diretta, quello si chiama il video del crepo. Sono arrivata con uno splendido trekking da Calacuili e ora vi faccio vedere un po' di immagini per poi fare un tuffo nell'acqua cristallina di questa celeberrima Cala. Allora grande, poi piano piano ci sono anche delle caprette. Ciao a tutti. Ciao a tutti.